vivere vivere è veramente una grande sfida senza un libretto di istruzioni che ci possa dare una mano a crescere capire rimediare ad errori mancanze e scordature siamo barche in mezzo ad un oceano quasi sempre in burrasca e quasi sempre con grande fatica con gran sprezzo del pericolo con le unghie e coi denti con le mani e coi calcagni riusciamo a tirarcene fuori ad uscire da impasse assolute che farebbero impazzire qualche nostro antenato che aveva magari meno da mangiare ma la cui mente vagava in un ambito del tutto restretto con margini di discrezionalità del tutto ridotti entro i quali poteva fare entro i quali poteva fare una scelta semplice oggi siamo multi essence e se godiamo di qualche libertà siamo poi troppo schiavi di noi stessi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti